Sono Glauco Comoretto, sono un fotografo del nord Italia. Mi occupo prevalentemente di fotografie di matrimonio e di ritratto. Il flash Profoto B1 è un flash molto potente da 500 Watt, alimentato a batteria, estraibile quindi possiamo portarne più di una, semplice da trasportare nella sua comoda valigetta. Possiamo comandare comodamente il nostro flash tramite il telecomando che viene infilato nella slitta della nostra fotocamera con un ampio display e una semplice tastiera. Il flash Profoto B1 ha una fantastica feature che è quella di poter sincronizzarsi con la nostra fotocamera fino a un 8 millesimo di secondo. Questo ci permette di aprire il diaframma del nostro obiettivo e ottenere degli effetti sfocati che normalmente col flash non sono raggiungibili. La grande potenza del flash Profoto B1 supera anche un altro limite dei flash da studio, ovvero il tempo di ricarica. Ci permette di scattare delle raffiche. Ecco che possiamo decidere di sfruttare uno stile più cinematografico nei nostri ritratti dove i soggetti si possono muovere e noi con le nostre piccole raffiche possiamo catturare il momento migliore senza imporre al soggetto qualcosa di statico ma permettendogli di muoversi. Il Profoto B1 è corredabile con una serie infinita di accessori che si possono immaginare per un flash da studio. Un gancio a baionetta molto semplice da utilizzare è un foro sempre disponibile per l'ombrellino. Il Profoto B1 mi ha cambiato completamente il modo di lavorare. Mi permette di vedere e valorizzare situazioni che prima mi sembravano impossibili. Vi ringrazio per aver seguito questo piccolo video e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Grazie a tutti!